Per farvi notare un po', diciamo, l'influenza della cultura popolare all'interno di questi primi approcci alla magia all'epoca, insomma, basti pensare che questo è stato pubblicato da Playboy, edizioni Playboy. Esatto, perché, diciamolo perché è veramente un aspetto curioso questo, Robert H. Wilson è stato per diversi anni un editorialista di Playboy. Quindi veramente... Quando all'epoca si leggevano anche... Quando all'epoca si leggevano... Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Salotto Interiore. Siamo, come sempre, nel quartiere del Pigneto, a Roma, che ospita anche la nostra casa editrice, e oggi ci troviamo, come già potete vedere, in un posto magnifico. Siamo da Blutopia, in via del Pigneto, numero 116. Blutopia è un negozio di dischi e libri che nasce nel 2011 con l'effetto di aprire uno spazio fondato sul principio, che vede il negozio di dischi e libri proprio come uno spazio di incontro. È gestito da un gruppo di appassionati professionisti di lungo corso, che per molti anni hanno animato disfunzioni musicali, una delle realtà romane più importanti nell'ambito musicale. Oggi siamo qui con Marzio Venuti-Mazzi. Benvenuto. Grazie. Grazie di aver accettato il nostro invito al Salotto Interiore. Allora, Marzio, ti presento. È un musicista, un produttore musicale, infatti mai luogo migliore fu scelto per realizzare questo incontro, ed è anche un nostro traduttore dalla lingua inglese. Per noi ha tradotto due libri finora. Il primo libro è Manuale di Psichedelia di Rick Strassman, e dopo sicuramente ci arriveremo. E poi un libro che sta per uscire a brevissimo in libreria, è un libro che si intitola Chaos Magic, la magia del caos, di Phil Hain. Allora, questo libro è per la prima volta tradotto in Italia. Innanzitutto, che effetto ti fa? Il fatto che sia per la prima volta arrivato nella nostra Italia tramite la tua traduzione. Che effetto ti fa? Sicuramente è una grande soddisfazione, un grande onore, perché poi è un libro che comunque io ho letto in passato. Ah, quindi già lo conoscevi? Sì, conosco lui e anche tutti gli altri autori che orbitano intorno alla magia del caos, già li conoscevo, insomma. E quindi è stato molto interessante. È stato un po' come rileggerlo, ma ho dovuto anche riportarlo in italiano. Allora, non è stato facilissimo, perché comunque, insomma, lui è molto estroso come autore, molto particolare, alcune cose andavano adattate e alcune cose si sono forse un po' perse, ma le abbiamo migliorate in un'altra maniera, insomma. Certo. E con il suo aiuto, tra l'altro, perché poi è una persona carissima, insomma, che ci ha sostenuto, ci ha aiutato, insomma, anche nella genesi, insomma, della versione italiana. Quindi anche nel lavoro, poi, di traduzione, vi siete sentiti, vi siete... Sì, sì, ci siamo sentiti, non tantissimo, però, insomma, verso la fine, quando bisognava definire alcune cose, appunto, queste cose un po' particolari, insomma, ci siamo sentiti, insomma. Ah, e che persona è? Che bello! Ah, molto, molto disponibile, molto simpatico, sì, 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 un po' come tutti, quasi tutti i maghi, diciamo, caoti, insomma, che è stato un po' estroso, un po'... Estroso. Fricchettone a tratti, insomma. Posso immaginare, vabbè, quindi è anche molto divertente. Assolutamente, sì. E il libro è anche divertente. Infatti, infatti, entriamo un pochino poi in merito di questo Cars Magic. Diciamo che con questo libro possiamo dire, no, che entriamo un po' in una nuova dimensione della magia, un libro assolutamente rivoluzionario, che mi piace molto quello che l'autore dice, quando dice che ha molto a che fare con il cambiamento, perché finché noi non sperimentiamo con una prova concreta proprio la magia, e quindi in questo caso, no, la Cars Magic, attraverso degli atti estremamente liberatori e che portano ad un cambiamento nella nostra vita, noi non sperimentiamo fino in fondo quello che è poi il tema di questo libro, no? Quindi mi colpisce tantissimo questo. In merito a questo ti faccio questa prima domanda. Secondo te, visto che la musica fa parte della tua vita, è un atto liberatorio, è un atto magico la musica, sia a livello di ascolto che anche a livello di, quando una persona suona, uno strumento per esempio? Come tutte le arti, sicuramente è liberatoria, rappresenta una connessione con qualcosa di divino, non divino, dell'inconscio, non lo so, ogni persona poi a seconda del proprio background spirituale o materialista, perché no, è elevato alla propria visione, però sicuramente è un atto liberatorio ed è spesso un atto che prescinde la persona, no? Quando noi diciamo non conoscere i tuoi miti, no? Magari noi abbiamo, ci piace un autore, un musicista, è tantissimo e cominciamo a idealizzarlo, no? Perché la sua musica, quello che trasmette, è qualcosa di, da un certo punto di vista, soprannaturale. e poi magari lo conosciamo, questo è, ammazza, è pure antipatico, no? E quindi può succedere, ma non è sempre così, ma nel mio caso sì, sono antipatico. E quindi l'arte è qualcosa che trascende le persone, ecco, questa è una cosa che uno capisce, e riguardo al, arriva proprio dal caos, ecco, questa è la connessione, perché il caos non è, la logica del caos, non è intesa come un qualcosa che è caotico, distruttivo, è più inteso come un brodo primordiale, da cui nascono le idee, da cui si creano delle nuove situazioni, elementi, opere, e quindi in cui noi, ecco, qui arriva la parte interessante del Maggiore del Caos, siamo noi che andiamo a scegliere quello che ci piace all'interno di questo grande calderone cosmico, senza che seguiamo in realtà delle vere regole, ci sono sempre delle regole, ci sono sempre dei maestri, ma qui abbiamo molta indipendenza di scegliere ciò che ci piace, e ciò che ci piace anche nella, ad esempio, nella cultura pop, altra cosa molto carina del La Caos Magic, è che se vogliamo adorare Luke Skywalker, perché no? Perché non ci può essere lui nel nostro pantheon, di personaggi ideali a cui ci rifacciamo? Infatti è bello quando lui dice, no? Non immaginatevi mai come all'interno di uno schema prefissato, noi possiamo assolutamente cambiare il nostro destino in qualsiasi momento e sicuramente La Caos Magic ci aiuta a fare questo, no? Mi è piaciuto quando hai detto a che fare anche un po' con il sovrannaturale, perché in qualche modo questi atti magici che si vanno a fare, no? Sono delle azioni concrete, indubbiamente. Gli effetti che si hanno sono estremamente concreti, ma spesso inspiegabili. Come è potuto succedere? E questo secondo me è proprio il tema che almeno per me affascina di più della Caos Magic. Spesso viene chiamata la magia dei risultati. Esatto. Ma come avviene non si sa, l'importante è che è vera. Eh sì, non è importante. Come dico io, la magia non importa se è vera o non è vera, se esiste o non esiste. L'importante è che funzioni. Esatto. Ecco, questa è la grande regola. Riguardo in particolare agli atti che ci sono descritti anche in questo libro, negli esercizi, tutto parte da un atto di coraggio, che è un po' lo stesso atto, che diciamo che da domani vado in palestra e ogni giorno ci vado, oppure domani comincio a studiare questa cosa qui. La magia fondamentalmente è azione. È azione, autosuggestione, perché è importantissima l'autosuggestione. Tant'è che i mentalisti, quando andate dal cartomante, in particolare quelli di Jodowski che sono un po' più psicomagici, un po' più psicologi, no? E quando andate da loro si parla con loro, cioè tu gli dici le cose, cioè non è che loro devono indovinare qualcosa, diventa un mondo di scambio, di idee, di intuizioni, in cui il lettore nelle carte legge qualcosa, no? Ed è questo, non c'è una regola precisa, non c'è un mistero, c'è un qualcosa che viene creato di volta in volta. È molto psicologico anche. Stavo dicendo, per esempio, i mentalisti, no? Il mentalismo, diciamo, il mago, che poi si rivela mentalista, viene considerato un cialtrone. Ma perché lui nasconde di essere un mentalista? Cioè, i mentalisti sono quelle persone, diciamo, spiegavano in breve, no? Che magari parlano con te, tu accenni a una cosa, loro capiscono già tutto un tuo mondo, magari ti dicono, no, tu sei una persona così, 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 e tu dici, ammazzati. Ma come hai fatto? È incredibile. E invece magari tu ti sei lasciato sfuggire, non volendo un dettaglio della tua vita, e da quello hanno ricostruito. Siamo degli osservatori estremamente perfetti. Ma quella è una caratteristica, secondo me, della magia, nel senso, deve essere anche questo, insomma. In maniera molto onesta. Guarda, io sono mentalista, quindi... Infatti Hein lo cita ogni tanto il mentalismo, no? Certo, sì, sì, sì. Quindi perché comunque la Chaos Match va a toccare più anche discipline, no? Assolutamente. Però è un'assoluta libertà, infatti lui non vuole categorizzare, no? No, no, no. Esatto. Sulla libertà è onestà, soprattutto. È onestà. Perché se io, ripeto, uso un pendolino, però sono un mentalista, non te lo dico, sto facendo il truffatore. Esatto. Ma se è tutto molto alla luce del sole, è molto chiaro, molto limpido, io perché non farmi aiutare da una persona che comunque riesce a leggere delle cose istantaneamente di me che magari altri non leggono. E però anche la cosa che mi interessa di più dire, per poi adesso passare magari a qualcos'altro, è proprio che lui dice tutti noi possiamo essere maghi. Certo. Cioè, non è che per forza ci sono delle persone che hanno delle capacità in più, ma tutti noi possiamo utilizzare... Ecco, prima dicevi degli esercizi, mi piace dirlo questo. In questo libro ci sono molti esercizi pratici che possiamo sperimentare ogni giorno, con molta... Poi lui è molto divertente, come abbiamo detto, quindi anche divertendoci parecchio. Quindi non perdetemi in libreria Chaos Magic di Phil Heine, tradotto da Marzio Venuti Manzi. Faccio un collegamento tra appunto il libro di cui abbiamo appena parlato che spesso cita un autore che è un autore appunto di che noi abbiamo pubblicato, che è Robert Anton Wilson, che è tante cose, adesso ve lo diremo, ma in questo caso proprio si collega con la religione dei discordiani. Sì. Cioè, che è un po' una religione, diciamo, canzonatoria si può dire, che si rifà a Eris, che è la dea della discordia e del caos, giusto? E lui è uno dei massimi esponenti. Robert Anton Wilson ha pubblicato, abbiamo pubblicato di questo autore questo libro insieme a Sex, Drugs and Magic con la prefazione di Stefano Bollani. Ecco la musica che ritorna nuovamente a fare capolino in questo incontro. Tra l'altro si può dire che comunque il discordianesimo, ma comunque anche tutta la controcultura americana ha comunque favorito, è stato un'importante influenza per lo sviluppo della caos magic, giusto? Sì, sì, sì. La realtà è che questo libro in particolare è del 70, ma il discordianesimo nasce nei primi anni 60. Esatto. Ma per farvi notare un po' diciamo l'influenza della cultura popolare all'interno di questi primi approcci alla magia all'epoca, insomma, basti pensare che questo è stato pubblicato da Playboy, edizioni Playboy. Esatto. Perché, diciamolo perché è veramente un aspetto curioso questo, Robert Anton Wilson è stato per diversi anni un'editorialista di Playboy. Quindi veramente... Quando all'epoca si leggevano anche... Quando all'epoca si leggevano, lui è un giornalista, uno scrittore, lui è tantissimo, veramente potremmo stare qui a parlare ore. Amico di Allen Giesberg, di McKenna, era tutto... Di Timothy Lirio, assolutamente. Che sono tutti autori, scrittori della controcultura. Philip K. Geek, anche, lui era molto amico. Esatto, esatto. Che spesso anche ritornano nel libro di Heinle questi nomi, anche Barrocks. Ma fanno parte... Sì, Barrocks, ovviamente, sì. Perché fanno parte di questa... Chiamiamo la mitologia della Magia del Caos. È un po' riscrittiva come parola, però diciamo, chi frequenta la Magia del Caos conosce tutti questi autori, insomma. Esatto. E devo dire la verità, sia in Heinle che in Wilson trovo sempre molta leggerezza. E molto... Loro si divertivano, tantissimo. Sì, erano contraria alla solennità, contraria alle vesti, le cose, tanto del tipico... Ai dormi. Ai dormi, ovviamente. Sì, sì. E c'è molta irriverenza, chiaramente. Assolutamente, assolutamente. C'è... Qui dietro, per esempio, c'è John Lilly che dice Robert Anton Wilson è un supergenio, ha scritto tutto ciò di cui... che io avevo paura di scrivere. e Watts dice osceno, blasfemo, sovversivo, ma molto interessante. E sicuramente questo accomuna sia Wilson che Heinle, perché sono veramente... Anche Watts era un amico. Watts, sì. Stanto lui era più buddhista, insomma. Esatto, esatto. Però devo dire che... insomma, no? Hanno molte cose in comune. Assolutamente. È un modo di vivere l'esoterismo in maniera molto più rilassata. Molte persone hanno paura. Oddio, adesso se faccio questo, le entità, le cose. In realtà è anche un modo per acquisire il potere. Una volta che sei tranquillo, che riesci a scherzare con l'assoluto, con il divino, sei molto più potente, molto più protetto. È vero. È un po' come quelli che ne parlavamo prima, quelli che hanno paura, che ti rubano. Arrivano subito. Attirano, è vero. Attirano, attirano. È tutta una questione di energie, alla fine. Spesso. Di attitudine, sì, sì. Anche attitudine. E secondo te il fatto di aver vissuto sia per Wilson che per Heinle un certo periodo di storia, in un certo contesto, in un certo... anche... diciamo che proprio un contesto culturale. Forse Heinle è più giovane di... Sì, sì, sono due contesti, parliamo di due epoche diverse, però comunque è un po' lo stesso filone, no? Sì, sì. Sicuramente, Heinle può essere sicuramente un... un po' un allievo, come di Wilson, di Wilson, Sì, assolutamente sì. Secondo te tutta l'atmosfera culturale ha aiutato loro nella loro produzione? Sì, all'epoca in realtà c'era molta di libertà di oggi. Oggi stiamo tendendo un po' verso una sorta di nuova inquisizione, di attenzione a quello che dici, sotto un'altra forma. attento a quello che dici, altrimenti qualcuno si offende. Ma in realtà comunque diventa una repressione in qualche modo. Certo. All'epoca c'era un po' meno, era... Pensiamo che lui, questo libro in particolare, parla del... delle droghe, l'effetto che hanno le droghe sulla sessualità. Sì. In maniera completamente irriverente, bellissima, estremamente interessante, però... Insomma, noi l'abbiamo pubblicato, però... Sì, questo libro è del... se non sbaglio, del 70, e proprio nel 70 è stato... erano vietate le droghe in America, in tutto il mondo, proprio nel 70. Quindi lui era proprio le ultime sperimentazioni. Esatto. Va bene, io passerei all'altro libro che hai pubblicato, che hai tradotto per noi. Lui è Rick Strassman, questo è il secondo libro che pubblichiamo di questo autore. Il primo è DMT, la molecola dello spirito. Sì. E qui, in questo manuale di psichedelia, diciamo, mentre nel precedente libro lui era concentrato più sulla DMT, sulla ricerca, sulla ricerca. Innanzitutto vorrei dire questo, perché per me è molto importante dirlo. Rick Strassman è un ricercatore, è uno psichiatra, innanzitutto, è un dottore in medicina e scienze biologiche, ed è... la sua ricerca sperimentale sulla DMT è stata il primo caso clinico sugli psichedelici approvato e finanziato dal governo degli Stati Uniti. Ancora oggi. Giusto? Diciamo, siamo proprio a... quest'anno, forse al massimo l'anno prossimo, verranno approvate le molecole come la psilocibina e l'MDMA per le terapie in America. Esatto. Perché lui fa... Approvate dal governo. Approvate dal governo. Lui è stato, sì, ha ripreso. Scusa, ti interrompo. No, assolutamente, raccontaci un po' di questo libro. Dopo il ban, diciamo, degli anni 70 sull'utilizzo delle droghe che si è... ha avuto un riflesso anche nella ricerca sulla mente umana. Quindi tutte le ricerche sono state bloccate perché erano le droghe che erano diventate illegali. Sì. E... Negli anni primi, anni 90, Rick Strassman ha ripreso un po' questa ricerca con il... con il DMT che è una molecola che è contenuta in tantissime piante e esseri viventi. Anche noi ne produciamo. Qua, infatti, lo dice anche. Ha degli effetti che possono essere estremamente curativi per la depressione, per le dipendenze. E... gli studi... degli studi ne trovate tantissimi su PubMed, ma proprio migliaia, e vertono tutti quanti in questa direzione, cioè nel benessere, insomma, la cura, ad esempio, delle depressioni... quelle che non hanno cura, insomma, quelle che non... che la gente ha in Svizzera suicidarsi. Certo. Come è successo anche recentemente, una ragazza andata in Olanda a suicidarsi perché non si poteva. Invece, grazie a questa ricerca, è possibile avere un ulteriore, prima della fine, diciamo, un ulteriore step molto risolutivo. Non ci abbiamo... ci sono, non abbiamo, io non c'entro niente, comunque ci sono circa il 70% di casi riusciti, è molto, insomma, sui pazienti. E quest'anno, l'anno prossimo, verrà approvato definitivamente perché è già stato tutto... Infatti, quindi la ricerca è andata, è stata assolutamente positiva e nei soggetti con gravi o anche lievi depressioni, ma non solo, cioè lui ha tantissimi pazienti che hanno tratto veramente beneficio dall'uso delle sostanze psichedeliche. Chiaramente, lui proprio spiega come queste sostanze siano veramente di aiuto, infatti c'è tutto il discorso anche sui microdosaggi. Certo. Non so, che esperienza è stata tradurre questo libro? Hai scoperto qualcosa che non conoscevi? Ho scoperto molto che non conoscevo, è stata un'esperienza eccezionale, veramente un bellissimo libro appassionante. Uno di quei libri, poi mi sono anche messa a cercare articoli, che nomina articoli, magari ai fini della traduzione ovviamente dovevo ricercare, però insomma ho detto ma vediamo un po' che dice quest'articolo. Ma effettivamente, e quindi no, è stato incredibile, interessante. Poi lui è anche uno spiritualista, insomma, era dentro all'ebraismo, proprio a livello spirituale, esoterico e poi è passato al buddismo, insomma, e rivede alcune pratiche di meditazione di questi filoni che ha seguito, le ritrova, le spiega all'interno dei fenomeni che accadono, all'interno degli effetti degli psichedelici. un'altra ricerca che poi sarà fatta da Groff stessa. Esatto. E so che, perché ci siamo sentiti a un certo punto quando avevi già ultimato, il libro era già uscito, e quindi hai avuto modo anche di sentirlo, Strassman, immagino sia prima che poi anche dopo. Ecco, invece lui che personaggio è rispetto a Hein, che sicuramente sono due personalità diverse. Sì, ovviamente sono diverse, però sono comunque anche lui molto gentile, molto disponibile. Sicuramente più impostato perché è un ricercatore o invece... Il discorso è sempre quello che facciamo prima dell'idealizzazione, uno finché lo vede nei libri e nei documentari ci ammazzano questo, come sarà, come non sarà, poi ci parli, tranquilli, non è antipatico. No, no, è molto gentile, molto disponibile. Sì, sì, lui ci ha aiutato, insomma, abbiamo fatto... un aneddoto di Garini che non posso raccontare, però insomma, è molto molto carino anche lui, molto divertente anche in alcune cose. È vero, noi ci siamo sentiti poi a pubblicazione ultimata perché c'era un giornalista che ha un bellissimo podcast che si chiama Illuminismo Psichedelico, Federico Di Vita, che speriamo di avere con noi presto, salato interiore, anzi, ti ho invitato tante volte, Federico, se vuoi venire, ti aspettiamo. Sono un grande fan. Il suo podcast si chiama Illuminismo Psichedelico. molto bello, molto ben fatto, molto bello. E in questo caso Marzio ci ha aiutato proprio nell'intervista stessa perché Federico faceva le domande e poi Strassman ha risposto in inglese e Marzio ci ha aiutato poi nella tradizione. Marzio, è stato un piacere, temevamo, insomma, di non arrivare 20 minuti invece abbiamo più che esplorato. Ti ringrazio. Sono già passati? Sono già passati. Facciamone altrimenti. Vedi, dobbiamo fare una seconda puntata. In un'epoca in cui i video dovevano durare tre minuti facciamo quelli di 40. Andiamo controcorrente. Andiamo controcorrente. Un po' caos. Ne faremo un altro magari con il prossimo libro che traduci. Volentieri. Grazie e arrivederci al prossimo Salato Interiore. Ciao. 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 Black is the color of my true love's air Her lips are like some roses fair She has a sweet smile and gentle sand and I love the ground Where on she stand And I love the ground Where on she stand And I love the ground Where on she stand Yes. Mm. Sì, 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 sì. Grazie a tutti